Avete visto sono arrivato proprio con il drop del beat avete visto mamma mia quanto sono Wow ragazzi prima di tutto scusate se ieri non c'è stata la live ho provato ad avvertirvi su instagram ma molti sicuramente non avevano visto pensavo di fare in tempo invece ho avuto degli impegni che hanno richiesto più tempo e quindi mi sono trovato all'ultimo che non ho fatto in tempo può succedere dai mi perdonate ogni tanto uno zoppicone anche la Ioni non lo potrà mai fare oggi ho preso le storie del quartiere